Per quanto riguarda il caso specifico, vi sono continui contatti in questi giorni anche con la provincia perché si sta pensando di poter utilizzare delle aule che sono ubicate nel plesso del liceo classico. Il bene dei bambini sta a cuore al primo cittadino di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, che dopo il rimbalzo di responsabilità tra l'ufficio tecnico del comune e la dirigente dell'istituto scolastico comprensivo Ardito Don Bosco, Maria Eugenia Basile, in merito ai 42 bambini rimasti senza posto nella scuola, punta alla soluzione. Il botto e risposta tra la scuola e il comune era iniziato i primi di agosto quando i genitori, che nel mese di gennaio avevano iscritto i loro figli in prima elementare, è stato comunicato che per i loro pargoli non c'è posto. La comunicazione è arrivata con una nota diffusa dal comune il 26 luglio, troppo tardi per la scuola che attendeva tutt'altra risposta, dato che al comune da tempo chiedeva lavori di adeguamento del locale per ricavarne altre aule. Dall'amministrazione comunale però il principio ribadito è stato da sempre lo stesso. Sono le strutture scolastiche che dettano il numero degli alunni che si devono iscrivere e non sono il numero delle iscrizioni che dettano gli inevitabili mutamenti profondi nella struttura. E intanto l'esperienza ha qualcosa insegnato, visto che anche il sindaco dopo il precedente patito in questa scuola si è rimboccato le maniche per verificare che anche negli altri istituti siano rispettati gli indici di funzionalità didattica. Noi stiamo ponendo in essere un'opera di verifica di tutte le scuole che sono di nostra pertinenza per verificare appunto il rispetto di quelli che sono i principi di funzionalità didattica edilizia urbanistica. Oggi i cancelli sono chiusi in attesa di essere aperti il primo giorno di scuola. La dirigente Basile, cercata più volte telefonicamente, non viene rintracciata, mentre la mamma di una dei malcapitati ci risponde con un messaggio telegrafico «Non mi interessa di chi siano le colpe che sicuramente ci sono state. Quello che spero e che mi preoccupa è che mia figlia abbia una classe, che sia tale e non un ambiente pericoloso, che non sia una classe pollaio e che abbia una buona insegnante». Rosaria Giovannone per la Cineus 24. Rosaria Giovannone per la Cineus 24.